I 31 interventi solo in questo frangente di tempo, mentre sul territorio seguiamo già 48 casi che sono alquanto complessi rispetto alla tipologia della violenza di genere. I dati sono eloquenti. L'Alta Irpinia non è certo un'isola felice sul fronte del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. L'attenzione deve rimanere alta e occorre lavorare sulla prevenzione e sulla diffusione di una cultura del rispetto tra generi e tra esseri umani. Il convegno, promosso nel Castello Ducale di Bisaccia sul tema proposte e azioni in rete, rientra nell'ambito di una serie di incontri itineranti che hanno lo scopo di sensibilizzare le comunità su un problema di scottante attualità, quale quello della violenza fisica ma anche psicologica nei confronti delle donne. Autorevoli e numerosi i relatori, tra questi Rosaria Bruno, presidente dell'Osservatorio regionale della Campania, ed altri operatori del settore come la referente del centro antiviolenza dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove il percorso Rosa è un modello organizzativo di massima efficienza. Questo è l'unico progetto che possiamo definire socio-sanitario perché ha un unico sportello all'interno dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, sia come pronto soccorso e poi sempre all'interno dell'ospedale, al piano superiore, è allocato lo sportello per il sostegno psicologico. Ritengo che sia un esperimento riuscito, dopo oltre un anno di attività noi abbiamo intenzione di continuarla, soprattutto abbiamo intenzione di dimostrare che si può essere vicino alle classi, alle persone più deboli, che si può essere presenti per un confronto, per un sostegno, ma soprattutto per un aiuto che scongiuri purtroppo quello che sta succedendo. Sappiamo quanti problemi e quanti fatti di cronaca ogni giorno siamo costretti ad ascoltare. Certamente questo convegno, oltre a parlarne e quindi a parlare di questo tema, vorrà certamente dare anche così delle idee.